Buongiorno e benvenuti in questa top 3 dei migliori colpi del Challenger di Parma 2019 Partiamo dal numero 3, occupato da Martin Quemas Che palla ha preso Zittieri, resta in campo la sua difesa E' il passante di Martin Quemas, dall'Uruguay l'ha giocata quella Dall'Uruguay, da casa sua ha giocato questa passante, ha di infilare Zittieri Era sparita dalla telecamera, ma stiamo al numero 2 con Tommy Robredo E' proprio su Salmait, si inventa il colpo del campione Attaccato di Teloni, infila Collarini, Tommy Robredo Era la maniera migliore per chiudere il match Ma, al numero 1 c'è il nostro Federico Gaio Ninja Gaio Che bella questa moleca E poi è chirurgico, è chirurgico in labba A scavantare Robredo Un punto, domandato, manovrato Aspetta di pagare, prima questa moleca Decentrare Robredo E poi love Dove, come Robredo Ficina del Marese Grazie a tutti